Ed eccoci arrivati alle tre cose da fare prima della fine del mondo in Gorizia e provincia per questa domenica, 14 aprile. La prima è andare a Cormons in piazza 24 maggio per una manifestazione sportiva. Comincerà dalle 10 più o meno di mattina. Stiamo parlando di Cormons Bike, che ormai è una tappa di quelle a due ruote, è una tappa rappresentativa per quanto riguarda il Collio Bike Team. L'evento si svolge su un circuito di due giri per un totale di quasi 20 km e si va anche sul monte, qua in mitica collina cormonese. Il circuito è caratterizzato da strade carrarecce, da single track, che dopo aver scaldato bene i motori, i muscoli, si sale, si scende per andare veramente forte. Una volta terminato il secondo giro e raggiunto nuovamente il parcheggio, che è una zona fondamentale della gara, si raggiunge piazza 24 maggio dove si conclude la gara. All'arrivo è previsto un altro ristoro, c'è il lavaggio bici, le docce calde e queste si trovano preside ricche di Cormons e dopo verranno effettuate le premiazioni e l'estrazione dei premi e c'è anche un pasta party per essere sinceri. Per informazioni info allora www.cogliobiketeam.it oppure la pagina facebook Collio Bike Team ASD. Un'altra delle cose da fare prima della fine del mondo è andare a Gorizia all'International Street Food Festival. A Gorizia nel capoluogo isontino, ai giardini di Corso Verdi, giardini pubblici, una manifestazione unica nel suo genere. Gorizia, la città dei 1500 eventi certificati, ospita un importante evento dedicato al cibo da strada. Dal 12 al 14 aprile le migliori specialità di street food fanno tappa a Gorizia. 35 track si sono appostati, si apposteranno ai giardini pubblici di Corso Verdi e offrono le specialità di tutto il mondo. Quindi non solo panini ma pietanze a tutto tondo da tutto il mondo. organizzato da street food per chiedere informazioni o guardare la pagina facebook International Street Food Italia. Questo fine settimana, domenica compresa, a Gorizia l'International Street Food. E questa è la domenica dei raduni. Ancora un'altra cosa, andiamo dall'altra parte dell'isonzo, nella sinistra isonzo, al quinto raduno dei bisiacchi in bici alla scoperta del tiramessù bisiaco. Anche questa è un'altra delle cose da fare assolutamente prima della fine del mondo in Gorizia e provincia. La località in questo caso è Ronchi dei Legionari, vicino a Monfalcone, in questa domenica 14 aprile. E si tratta di una pedalata di 20 chilometri, tutti in pianura e su percorsi asfaltati, su piste ciclabili o anche per strade minori. Ed è aperta a tutti, dai 0 ai 90 anni, con bici in buono stato di manutenzione. Si chiede alle bici il buono stato fisico. La quota di partecipazione è 2 euro per copertura assicurativa e contributo spese. Per quanto riguarda il programma, alle 9.30 ci si ritrova presso Villa Vicentini Miniussi, in piazza Unità a Ronchi dei Legionari. Ci sarà una breve presentazione dell'ecomuseo e poi partenza verso Pieris. Alle 10 con itinerario attraverso San Zanut, Cassigliano e Turiaco. E alle 11 si raggiungerà la sede della mostra, dove ci sarà Cesare Zorzin, che guiderà al percorso espositivo. Alle ore 12 ci sarà la testimonianza di Flavia Cosolo, la signora del tiramessù, e poi si farà rientro a Ronchi dei Legionari, dove alle 13.30 circa si arriverà pedalando attraverso Begliano e Dobbia. Per informazioni e iscrizioni la mail è bisiacinbici.gmail.com. È possibile anche iscriversi alla mattina della pedalata, ma è gradita la prenotazione per preparare un numero adeguato di tiramessù. E questa è una bella ciliegina. È tutto per oggi per quanto riguarda le tre cose da fare assolutamente prima della fine del mondo in Gorizia ed intorni. Ringraziamo per la collaborazione l'ufficio di Promoturismo FWG di Gorizia.